Maurizio, un commento da chitarrista. Intanto stiamo guardando entrambi le chitarre con avidità, diciamo. Intanto sì, è un progetto di cui sono entusiasta, anche per affinità, perché suona la chitarra e adoro il tipo di sound che Antonio ha scelto per il disco. Che è un sound che, così come le composizioni, anche il suono credo che abbia una componente che viene dal jazz, dal blues, dal rock, dal Brasile, da tutti i mondi che lui ha frequentato. E in questo suono e in questo tocco io personalmente ci vedo un po' tutto. Quindi è un disco che, sia dal punto di vista delle composizioni, dal punto di vista delle melodie, dal punto di vista del chitarrismo, io trovo appagante, molto piacevole all'ascolto.